Consiglio regionale oggi all'emiciclo, discussione sul programma di mandato del presidente Marsilio, già esplicitate in realtà, ma anche contro programma messo in atto dalle opposizioni perché era presente il fronte del no al tracciato della linea ferroviaria veloce per scara Roma, maxi opera pubblica. Se da un lato il tema all'ordine del giorno è stato il programma esposto già dal presidente Marsilio, oltre alle varie surroghe, il fuori programma è stata appunto la presenza dei comitati che non sono contrari all'opera in sé, ma al metodo e al percorso, invitati in aula dal PD e dal leader del patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico. Una non condivisione della scelta del tracciato e dell'opportunità che questi fondi possono avere per tutta la Val Pescara e anche di Chieti, perché comunque la scelta del tracciato in sito, quando in realtà le infrastrutture regionali a livello di piano infrastrutturale regionali si stanno delocalizzando dai centri urbani, non capiamo le motivazioni per cui in questi 13 chilometri che vanno da Brecciaroli Interporto a Scafa per un miliardo di euro si rimane all'interno danneggiando i territori, mettendosi contro la cittadinanza, perché ovviamente ad oggi si è ottenuto un sì delle amministrazioni, ma non un sì dei cittadini, perché ovviamente è palese a tutti che nessuno dei cittadini e del popolo è concorde. Adesso stanno facendo retrofronta anche degli amministratori. C'è un'opera importante che attraversa i territori della nostra regione, segnatamente in questo caso la provincia di Pescara e quella di Chieti, e per queste opere noi siamo favorevoli a che gli interventi si realizzino, ma che tengano conto delle criticità che le stesse opere progettate hanno determinato. I comitati non è che sono contrari all'opera, sono contrari ad alcuni interventi previsti che attraversano territori dove c'è una conurbazione urbana, c'è un abitato importante da demolire, ci sono fabbriche da demolire, insomma c'è la necessità di opzionare una soluzione che c'è, che è la variante plus. Ovviamente è stata molto animata anche la discussione sul programma di mandato, già esposto in precedenza dal presidente Marco Marsilio. Per il leader di patto dell'Abruzzo, Luciano D'Amico, si tratta di un programma senza alcuna programmazione. Primo punto, un documento programmatico che in realtà non programma, perché alla parte programmatica, intesa in senso stretto, riservata una minima riflessione. Il secondo punto è che nei pochi spunti di programmazione ci sono delle indicazioni assolutamente generiche, non collegate alle linee d'azione che il governo intenderà assumere nel corso della legislatura. E poi tutta la parte principale del documento, che è una parte di rendicontazione consuntiva su ciò che è stato fatto nella precedente legislatura, che si basa più che sull'azione di governo espletata in quel periodo, in quel quinquennio, su ciò che è accaduto in quel quinquennio, indipendentemente da chi possono essere le azioni. Mi riferisco ad esempio a tutti i finanziamenti che erano stati già previsti nel Masterplan Abruzzo e che hanno trovato nel quinquennio poi l'apertura dei cantieri o la loro prima attuazione. Mi riferisco a tutta un'altra serie di iniziative. Penso all'inserimento dell'Abruzzo nelle reti TNT, avviato già nel 2015, che viene riportato come azione di governo della undicesima legislatura.